Ennick, siamo qua, davanti a due caffè, a Wimbledon. Chi è il tuo giocatore ideale sull'erba? Servizio? Ismo. Diritto? Roger. Ravescio? Nole. Quindi Vavrinka, che ci abbiamo giocato contro, non lo lasciamo da parte? No, no, è che secondo me su erba è meglio Nole, che tira un po' più tese. Volè? Per tutti i tempi, cioè proprio anche... Sull'erba, te che vorresti avere la volè di? Sampras. E ora ci rimane la parte mentale. Rafa? Ora, però, io non ci sono di nessuna, quindi decidiamoci, almeno è rimasto Luka. E' il pallonetti, magari. E' il pallonetti. E' il pallonetti. Il pallonetti. Ok, allora va bene. Vita fuori dal campo? Vita fuori dal campo? Allora, qui non conta l'erba, prendiamo un giocatore... No, perché no? Cioè, sono tranquillo. Però se scelgo un altro, dico Rafa. Quindi io comunque faccio parte del tuo giocatore ideale. Sì, perché i pallonetti... Come li faccio? Io non ripeto nessuno. Esatto, mi ricordo ad Ambersa. Ciao!